Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi Oggi vi spiego dove trovare e uccidere questo boss Quello spirito antenato regale E una volta ucciso ucciderà l'arima in brasa Così facendo otterremo così l'arma Più quel potere che avete visto nella miniatura E poi questa è la strada giusta per andare a Nokron Nel video precedente ho fatto vedere il tutorial Su come sbloccare quel boss, il primo cervo, quello morto nel tempio Una volta accesi tutti quei pillaroni Che ne sono otto, il primo cervo E questo invece ce ne sono più o meno sei Quindi da accendere Una volta accesi ci dirigiamo lì dal cervo morto Lo tocchiamo e ci trasporterà nella sua caverna Questo è il posto, Nokron, città eterna Quindi io vi consiglio sempre di andare avanti, avanti Girare a sinistra Quindi continuare a camminare sui tetti Perché noi andremo direttamente nella città Ok? Eccoci arrivati Quindi basta che scendete da lì E atterrerete qua Semplice Quindi proseguite da questa parte Quindi qua se vi interessa Troverete anche la lacrima riflessa Il boss da uccidere Quindi io vi consiglio di battervi nudi Perché lui così facendo quella lacrima riflessa Prenderà la vostra forma E già Quindi io vi consiglio di battervi nudi Grazie a tutti Ok. Ok. Una volta arrivati, accenderemo così il nostro primo pillarone, quindi accendi la fiamma, questo non mi fa niente, quindi mi raccomando, tanto ignorateli. Proseguite da questa parte. Qui invece accendete il secondo. Come ho detto, ne sono sei. La signorina qua che sta cantando, oddio l'ho disturbata, ha smesso di cantare, oddio, questa parte. Non vi preoccupate, ragazzi, che poi lo porterò io in vita, così lo ammazzo. E ve lo restituisco di nuovo. Ok. Da questa parte ancora dove sta questo tempio distrutto. Ci ne sono altri due e abbiamo finito, voi. A. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Siamo arrivati alla sua Tana, questo invece vola, l'altro invece faceva proprio pena, se volete vedervi la guida su come sbloccare l'altro cervo godetevela perché veramente quel cervo mi faceva bene, non volava, non attaccava solo con le zampe posteriori, questo invece vola, si trasporta, non so neanche che cosa fa, si evaporizza, non so nell'aria e poi ritorna di nuovo al punto di spawn laggiù. Vabbè, vabbè, ecco avete visto? Madonna non si stava un attimo fermo, non riuscivo a prenderlo con il mio spadone Vabbè? 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 Ok, una volta c'è, abbiamo preso così la rimembranza del regale antenato e adesso torno in superficie perché vado un attimo alla tavola rotonda così facendo do questa rimembranza alla vecchia morta lei e mi faccio dare così quella mazza. Grazie. Grazie.